Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo il capitolo 11 di Sky Render Giants e sono solito attio, sono qua con Leo Ciao Abbiamo avuto l'ennesimo problema con l'altro macchinino se avete visto la sfida eroica di Shoroboom che potete vedere qui che scende dalla nave sapete di cosa stiamo parlando dobbiamo purtroppo rifare il capitolo 11 speriamo di non mettersi troppo alcuni oggetti li abbiamo già presi e al solito vi cerchiamo di far vedere dove erano e visto che non li possiamo raccogliere di nuovo purtroppo non è colpa nostra quindi ci scuserete dovrebbe essere l'ultima volta che succede però speriamo sia l'ultima volta purtroppo andava fuori sincro l'audio era veramente brutto da vedere abbiamo dovuto per forza rifarlo se avete seguito nel primo canale gli ultimi unboxing avete visto che abbiamo preso Shoroboom e Chop Chop intanto io ho potuto andare con un pochino entrambi e ad esempio Shoroboom tira i suoi bei funghettini esplosivi che rimbalzano e c'ha questa mossa bellissima che io adoro con il super fungo un super fungo adorabile sta già morendo perfetto non so cosa ti ha colpito ah lui che spara lo vado a picchiare a tutti i cuori fortissimo Chop Chop che si cura non mi ricordo chi ha detto di usarlo ma bravo avevi ragione e poi volevo fare un saluto a Peppe che ci scrive sempre di che vorrebbe essere salutato allora ciao Peppe ciao Peppe non mi schiacciare li potevi romperli facendo soldi allora 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 vediamo un po' cosa c'è qua ci vuole un gigante pianino che mi rompi i giganti ma non ti rompi i giganti ancora mi rompi le palle Trasher hai mai dato la mail ad Activision chiedendogli di rilasciare al più presto noi pg si tumpback vorrei e loro cosa ti hanno detto zucchia allora loro mi hanno detto con calma cioè fretta allora lui ha solo pietracielo oh cavolo ma questi dove escono lo evitiamo dai continuo ad affettare il mini allora però oggi di qua c'era qualcosa invece quindi tuffiamoci eh vai andiamo su andiamo in quanto lo indovino dai l'hai già fatto una volta questo non vuol dire che oh madonna miseriaccia bella allora destra vai se volevo destra si poi destra credo si poi destra si poi sinistra dici sicuro non è che vuoi cambiarla e poi destra si ok poi destra si sicuro devi andare lì vuoi cambiarla sicuro poi tu cazzo lì a destra di nuovo non lo so dai lo so io ok di qua vediamo sbocchiamo di qua e poi ehm 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 devi arrivare in quello verde poi poi ehm 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 eh anche sono dimenticato ehm beh sinistra si e poi ehm dica dica sono tutto orecchio poi sinistra così siamo tornati sempre qua si siamo di nuovo qua allora adesso prendo in mano la situazione improvviso improvvisando sul lato sbagliato ma vabbè no vabbè no vabbè pum destra è per far che destra dopo a meno che non no perché ritorno di qua e di qua che ci faccio no sono veramente carognosi queste cose dai senti fai un giro completo dei bordi così e ritorni lì bravo fai sinistra poi fai destra poi non fai continuo con sinistra mi stavo grattando arriva lì poi caputati esatto poi lì ok poi dai ci siamo cazzo della parlaccia no si ma fa uno tia sto sto improvvisando si improvviso mi sembra una buona idea sta funzionando non sembra bisogna no va bene va bene perché adesso tu rifai le stesse mostre di prima non mi ricordo già più quali sono non aspetta eh no sono in rush agonistico ormai eh però che cavolo ti avrà un po' straccio cioè fai muro per piacere fai sinistra manetta e dove vado sinistra manetta fai sinistra manetta devi arrivare qua e poi da lì eh poi da lì ricontinua sinistra poi ricontinua sinistra poi ricontinua sinistra poi ricontinua sinistra vai devi entrare nel verde che ti butta su ah si ok si lo stavo guardando anch'io infatti stavo appunto controllando che finissi nel viola poi finisce lì chiedete ai vostri genitori di comprare la guida di Skylander Giants così non perderete ore e ore come noi non è mica una brutta idea allora qui c'era una scatola dei soldi credo ok sorry no vabbè non è colpa di nessuno a parte il fatto che quello è ciccione per il resto non è colpa di nessuno è colpa di Activision che fai ciccioni lenti però chop chop taglia F3 si rispetto andiamo 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 a cattarli andiamo dai si sono d'accordo tanto io aspetta che soddisfo una piccola richiesta non passa anche l'el dopo caso mai potrebbe tornare comodo andiamo mi ha detto che volevano vedere Eruptor senza elmo qualche qualche ragazzo così lo contentiamo questo ricordiamo il pietracielo non ci parliamo si questo semplicemente ci dava o dei soldi o delle pietre si dopo può danno anche dei soldi quando non sanno più cosa darti qua c'è un nemico che era rimasto meno male che ho preso lui così possiamo sparargli un po' se ci arrivo ecco basta rilanciargli quello come ha fatto Leo giustamente bravo Leo Leo tira a velocizzare ecco è aperto possiamo andare guarda le palle che vanno giù andiamo 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 che è tardi ci putiamo giù di qua squizza il pulsante ti faccio dare un trucco no aspetta mi hanno segnato un trucco se premia select ed esci devo ringraziare tantissimo non mi ricordo chi l'ha detto il secondo giocatore appare dove c'è il primo cioè dove c'è quello che ha premuto non so chi l'ha detto ma gli vogliamo bene allora giù di qua andiamo non l'abbiamo fatto perché non hai messo fly in la play quando ti sei ricordato di sconnetterla non ti sei ricordato di sconnetterla si venirebbe a passargli alle spalle come sto facendo io oppure morire come ti hai facendo in questo momento troppo il fatto che tu ti sei allontanato mi ha fregato dicevi che non ti piaceva in realtà ti piace Popfiz non è vero si sto scherzando ti volevo mettere in cattiva luce con i nostri fan con gli amanti di Popfiz andiamo andiamo tutti i lovano Popfiz ecco la donna in crisi isterica eh quello però è cattivo è chiaro veloce andai infelito facciamo che mi tondo fa anche la combo e mi tondo fa la bellissima sputacchiata di fuoco bellissima e fortissima sputacchiata di fuoco soprattutto fortissima si allora come sei rimasti eh però non c'è niente indietro ma qua cambiamo zona perché ti trasformi eh perché sbaglio tasto ma da un po' che non do acqua in effetti abbiamo avuto un po' di difficoltà per fare questo capitolo 11 abbiamo tanti progetti tante cose da fare siamo molto impegnati ma è vasta vita privata tu io corri 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 vabbè che te c'è i tuoi impegni allora sta prendendo la patente facciamo i tuoi degli auguri anche porta sfiga non facciamo gli auguri non vita uno dai qua però non possiamo più scendere dovevamo guardare di là ci siamo ben lasciati dentro qualcosa mi so e lì forse c'era lì c'era del cibo di qua non ci andiamo scusa allora vita vai con l'elfetta mi piace anche come figi è fortissima l'elfa non ha assolutamente ragione di esistere non so come è quella della serie 2 mi sarebbe piaciuto prenderla ma ormai c'ho la prima devi prendere quella di fuoco l'elfa di fuoco ah l'arciera ah ma è pesata io quello che ero convinto forse di parlare di essere io allora qua bisogna saltare su ti ricordi che ci abbiamo messo un po' l'altra volta ok scendo anch'io tu dovevamo tipo premere il bottone e non dovevi scendere però tu ripremiti il bottone vabbè supereruptor qua c'è un cappello occhio qua c'è un cappello occhio se mi ricordare adesso c'entrava anche con la frutta il cappello però ci ributtiamo giù perciò al primo qua aspetta aspetta che c'è un po' di soldini che l'uptor non ancora finito di potenziarlo insomma l'elfa ha sfondato e fa veramente veramente forte no è ricca ah per quella eh ma c'è un trofeo lungo che lo farò con l'elfa ma giù di là non si può andare ora che ci faccio caso si vede il bordo ma no non è visitabile boh di là ah no fai da un attimo però eh aspetta sono veramente tanti soldi ah no di vestirina la pre me il bottone di la verità è juve puoi raccogliere anche i soldi vabbè sono indietro ti prendi tu? no prendo io dai che finisco di potenziare Router che è molto simpatico si può fare 3 di queste 3 sputazze 3 palle di fuoco un sacco di danni Router è molto simpatico poi i light core dobbiamo usare scusate scopo informativo è uscito Jetwag si è vero l'ho visto l'altro giorno in negozio ma la cosa più bella che hanno fatto è il pacco da 3 un 3 light core che si risparmia abbastanza rispetto al prezzo originale ah non per dire ma mi stavo dimenticando l'elfa si cura anche ogni 5 secondi io guadagno 5 di vita se strecate qualcuno della vita soprattutto spamiate perchè lo potrete prendere del primo episodio soprattutto la pose è più bella quella del secondo è su una sola gamba e io che sono un pignolo ti piace di più questa? no è che penso che la seconda è molto delicata ho paura che si spacchi appoggiando solo su una gamba quindi cosa ci devi fare ma sai anche solo trasportarli tu quando vai dai tuoi compagni di merende per risparmi i tuoi pg no no compagni di merende vengo da te a registrare qua c'era un forziere o un capello forse un forziere c'era qualcosa che purtroppo non possiamo farvi vedere sono tornato con l'uomo mutanda no la prossima sfida regionale è la sua io? ci darò il camant qua c'è qualcosa che non vedo cos'è livellup per erutta vengo un altro punto esperienza in questo episodio qua ci si infila no questi abbiamo detto che non si poteva però di qua c'è qualcosa invece cosa cosa cosa? dei soldi andiamo a scoprire questo c'è un posto dopo sei molle di qua c'è uno zaffiro aspetta e proseguiamo su per di qua quanto siamo molle di qua sento fonzi che a guardare fuori sei nevica 147 ti sei fatto per 2 eh? per 2 bam 145 bam ti ho salvato appena in tempo a farlo prima adesso ho pensato adesso tu aiutami però che qua e io quando appaio questi passano sopra anche questo è un po' un problema usa il laser contro loro quello col tondo su ti ricordi? aia che male questo colpisce sia fisico che col fuoco dai dai la potenza è nulla senza il controllo esatto jamboy picchia nota quel jamboy mi ricordo come si c'ho solo pesare non è che è tanto difficile però se n'è andato questi devono rompere guarda che ho fatto livello 7 a quanto sono già salito si expa tantissimo in questo livello 11 tirano a cogliere i soldini che servono anche a lui manca l'ultima abilità manca quella del pettirosso che non ho ancora visto poi ci vuole qualcosa di terra oddio non ha beniente di terra prendimi su qualcosa di terra e mi hai fatto morire crasher l'hai fatto morire? si no non è morto crasher però due ciccioni non ce la facciamo più prendi terra finchè no no crasher è morto no lui è morto ah crasher l'avevi cambiato prima per prendere buh qualcosa per passare da qualche porta per prendere l'elfa credo aspetta che ti apro io sono terroso ah io non posso prendi la pop ah no niente niente pop pop andiamo a vedere cosa c'è qua giù vabbè sempre cappello forziere anche qua mi so lo facciamo saltiamo no? andiamo a vedere dai non c'è niente facciamo vedere che non c'era niente eh lo so però dai scopo informativo tutti i livelli è così no non c'è niente dentro non c'è niente dentro non è vero non è decorativo no non è vero in genere c'è qualcosa in questi non c'era niente me lo ricordo da un altro episodio ma facciamo vedere tutto per completare l'opera insomma a vedere bene Woodroot giusto vediamo questo altro passaggio con questa cortina di rocce che si formano e si solidificano e creano un ponte e qui abbiamo la fabbrica di rocce allora 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 allora